Ciao, a 24 ore dal mio primo video che riguarda il modulo di allarme GSM eccomi di nuovo qua con un aggiornamento ho fatto una variazione abbastanza importante del software interno e quindi mostro in cosa consiste in pratica, fino ad ora era possibile memorizzare un solo numero telefonico a cui l'allarme chiama in caso di scatti l'allarme adesso è possibile memorizzare due numeri telefonici quindi in caso di allarme vengono chiamati entrambi i numeri è possibile memorizzare in questi due spazi o numeri telefonici differenti che possono essere fissi o mobili o anche eventualmente due volte lo stesso numero in pratica, in caso di allarme, il modulo chiamerà due volte lo stesso numero per memorizzare i due numeri è come fare allora, per il primo, come prima nel video precedente la memorizzazione si fa entro il primo minuto di attività del modulo cioè da un minuto dalla sua alimentazione vediamo in pratica allora, con la chiavetta inserita alimentiamo il modulo allora accendiamo il power bank ok quindi adesso ho un minuto di tempo per chiamare il modulo come al solito faccio uno squillo soltanto e chiudo se il numero è memorizzato mi chiamerà entro 10-15 secondi sul cellulare ecco fatto allarme mi sta richiamando adesso per memorizzare il secondo numero devo fare una cosa spengo l'alimentazione tolgo l'alimentazione ok, adesso ho spento il power bank quindi non è alimentato tolgo la chiavetta e accendo di nuovo ecco adesso ho alimentato quindi entro un minuto chiamo con il secondo numero che questo è un numero fisso un numero un altro cellulare praticamente ok, ho fatto lo squillo e adesso devo chiamarmi a questo numero ecco ho fatto mi sta chiamando l'allarme riconosco dal numero quindi adesso abbiamo memorizzato i due numeri telefonici possiamo anche spegnere l'allarme naturalmente come ho detto nel video precedente i due numeri rimangono memorizzati se non vengono sovrascritti e possiamo utilizzare l'allarme normalmente quindi lo accendiamo attiviamo e aspettiamo un minuto per la sua attivazione ecco è passato un minuto dall'attivazione cioè dall'alimentazione dell'allarme quindi l'allarme è mai operativo quindi nel momento in cui viene staccata attraverso anche il filo ma anche la chiavetta l'allarme chiama entrambi i numeri memorizzati infatti sta chiamando il primo numero che ho memorizzato e troppo e troppo chiamerà anche il cellulare ecco sta chiamando anche il cellulare ecco in questo consiste il primo upgrade del software quindi la gestione di due numeri telefonici ok al prossimo video ciao ciao